Cormacrot, l'ultimo commovente post su Instagram, la vita è breve, aggrappatevi a ciò che amate, Cormacrot è morto a soli 25 anni per un cancro al terzo stadio diagnosticato nel 2021. Il suo ultimo post su Instagram è un inno alla vita, siate la forza forza inesorabile che vive e respira ciò che decidete di essere e amare. La notizia della morte di Cormacrot ha straziato il mondo dello spettacolo americano. Figlio 25enne dell'attore Tim Roth, gli era stato diagnosticato un cancro al terzo stadio nel novembre 2021, appena un anno prima della sua morte. Il musicista aveva deciso di condividere con i suoi followers l'angoscia di questa battaglia che non gli stava lasciando scampo. Le sue parole risuonano a un certo punto come un commovente inno alla vita, la famiglia ha comunicato così la sua prematura di partita, domenica 16 ottobre, abbiamo perso il nostro bellissimo ragazzo Cormac dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. È morto serenamente tra le braccia della sua famiglia che lo amava e lo adorava. Ha combattuto con incredibile coraggio nell'ultimo anno e ha mantenuto il suo spirito e il suo umorismo fino alla fine.